Un laboratorio per bambini, prima vedevamo che gli stavano raccontando anche delle storie, delle storie animate, ecco, che cosa avete organizzato, di cosa si tratta? Sì, abbiamo organizzato una due giorni dedicata completamente alle festività natalizie, alle nostre tradizioni e abbiamo chiesto alla biblioteca regionale, con la Gela della Penna, di organizzare ed è uno storytelling dedicato al Natale, quindi stiamo raccontando quello che è la storia del Natale, delle nostre tradizioni, infatti quei bambini si spostano nel nostro laboratorio del mercato coperto, qui abbiamo un signor Lenotti di Campagna Amica, per fare i dolci natalizi, ovviamente saranno quelli dedicati alle nostre tradizioni e infatti stanno facendo le cartellate ai bambini, perché non dobbiamo mai perdere questo discorso con la nostra storia, con le nostre tradizioni, con quella che oggi ci consente di essere quello che siamo.